Grande successo per la seconda edizione di Babbo Natale in moto che si è svolta a San Cataldo dove la città è stata sommersa da più di 300 centauri vestiti con i classici costumi natalizi, dove si è vissuta la magia del Natale tra colori, suoni, sorrisi e felicità dipinta non solo nelle facce dei bambini ma anche in quelli più grandi. Tante persone per le vie della città hanno partecipato a questa iniziativa dove aspettavano il passaggio delle moto e vedere sfilare questa carovana. Un plauso a Luigi Vullo e alla famiglia Faraci per la riuscita manifestazione con l'appuntamento dunque al 2023 per la terza edizione.